Buongiorno ragazzi, volevo risottolineare un concetto, ci tengo molto, poi lo sapete negli ultimi tempi io mi sono spostato molto più sul calcio e la mia passione, l'Inter, lascio parlare solo i professionisti del settore, lascio parlare solo i ragazzi, però innanzitutto bisogna ricordarsi che eh a qualcuno bisogna ricordare che le quote di maggioranza dell'Inter sono state date impegno ad Alibaba, quindi il maggiore azionista dell'Inter non è Zanga ma è Alibaba, innanzitutto, quindi tra l'altro questo Zanga è sparito da un anno, l'hanno arrestato, io non lo so cosa gli è successo. Io so solo che questa proprietà farlocca è assente a me sinceramente mi ha stancato, ma perché mi ha stancato? Vi spiego molto in maniera molto veloce perché sento sparare delle puttanate assurde come una nuova proprietà, ma gente poi che fai giornalista, ma non su YouTube eh, l'ho letto in giro, non c'entra nulla YouTube, cioè innanzitutto una nuova proprietà potrebbe intervenire negli aspetti finanziari, a differenza di questa proprietà farlocca e inesistente, a cominciare dal Bond fino alle perdite, perché ragazzi, la CQ si sta sottovalutando una situazione gravissima. Questo banale che è mio, va bene? Ha un certo modo di comunicare, un certo modo di esprimere le proprie idee. A me piace avere a che fare con gente che usa almeno quattro cinque neuroni, perché se ad oggi, visto i risultati positivi e che fanno felici tutti, visto che la squadra va bene, siamo arrivati ad un livello di calcio altissimo, tutte queste robe qui stanno nascondendo una situazione gravissima. Gravissima, perché qui stiamo sottovalutando una situazione gravissima, la UEFA è già intervenuta tra qualche mese via patrimonio netto negativo, non si può più iscrivere, non ti puoi più iscrivere alle competizioni, noi dobbiamo trovare altri 160 milioni, ve l'hanno detto i leccatori di anno, di zang, che dobbiamo trovare altri 160 milioni. Allora ve lo diciamo noi. Questa società farlocca, questa proprietà farlocca, inesistente, si legge solo ed esclusivamente sui risultati. Se dovesse andare male un anno, questo castello di sabbia crollerebbe definitivamente, perché noi siamo in piedi, grazie al botteghino, grazie agli incassi della Champions, questa proprietà non mette più un euro, accumula solo ed esclusivamente debiti. Il riscadenziamento, motivo per cui sto facendo questo video, perché lo voglio sottolineare con un video, che rimanga lì agli atti. Il riscadenziamento è solo, qualora venisse fatto, io ho i miei dubbi perché è ancora di ufficiale, io non ho letto nulla, quando poi sarà ufficiale, ne parleremo, però intanto non lo vedo da nessuna parte l'ufficialità del riscadenziamento. Il riscadenziamento sarebbe l'ennesima missione di colpa di questa proprietà farlocca che non ha un euro per andare avanti, perché avrebbe dei tassi di usura, appesantire, non fa altro che appesantire i conti e non fa altro che comunque, capito, non fa altro che limitare la liquidità, perché all'Inter manca la liquidità. Il maggior valore che l'Inter poi acquisirebbe, secondo qualche fuorilasse, lo perderebbe tutto in debiti, in interessi, perché con il primo debito ci paghi gli interessi del secondo debito, che poi devi fare un altro debito per coprire il terzo debito. Debito paga debito, è finita questa storia. Il discorso l'abbiamo fatto noi, con Effenberg, te lo ripeto, te l'ho detto anche ieri sera in live. Ammesso e concesso che OCTRI, che comunque sappiamo benissimo avere due membri nel GDA, accetti questa proroga del peak bond, non si esce da un minimo del 18%, perché se vi ricordate, il sole 24 ore parlava di un 22-23, noi siamo rimasti bassi, noi abbiamo dato un valore 18, perché 15 è troppo bassi. Non passa da 12 a 15. Anche perché poi gli investitori, intanto comincia a darci un po' di soldi. Ok, vuoi riscadenziare? Intanto dacci 100 milioni a maggio, tanto per cominciare, ed è quello che accadrebbe. Quindi sarebbe minimo un 18%. Dovremmo, con un 18% del riscadenziamento, ripeto, che è dire ragazzi non ho un euro perché nessuno mi ha fatto un finanziamento, nessuno mi ha prestato un euro. Allungo solo un'agonia in attesa dell'accessione, perché il riscadenziamento vorrebbe dire allungare un'agonia in attesa di una cessione, perché non può fare un progetto, non ha futuro, non la squadra del prossimo anno ci sono cinque e sei che hanno trentasei anni, che ad oggi giocano titolari, vuoi prendere Taremi, vuoi prendere Zerischi, te pensi di trovare sempre dietro un angolo un giocatore come Acebio, come Mkhitaryan, non funziona, non si purtroppo. Comunque a me si è concesso, a Zanghi dice ok, ti riscadenzi, mi stai simpatico, sei un bel ragazzo, ti riscadenzi al diciotto per cento. Nel duemilaventisei dovremmo restituire cinquecentotrentacinque milioni. A maggio l'Inter dovrebbe restituire cinquecentotrentacinque milioni e il trenta giugno dovrebbe restituire duecentoquattordici milioni di perdite, quindi cinque e trentasei più due quattordici. A giugno duemilaventisei sono settecentoquarantanove milioni. Non può stare più in piedi questa società. È impossibile farla stare in piedi in queste condizioni. Nel duemilaventisette poi, quindi settecentoquarantanove milioni fra due anni. Intanto trova anche centosessanta milioni del patrimonio netto negativo però. Oltre il bilancio segna meno trenta perché avete letto il bilancio segna meno trenta? Nel duemilaventisette ci sarebbe poi un piccolo bond da quattrocentoquindici milioni dove andrebbero a sommarsi altri cento venti altri centoventotto milioni di perdite rinviate. Quindi sarebbero praticamente con il patrimonio netto negativo un miliardo e quattro di debiti. Uno quattro e cinquantatré con il diciotto per cento. Fanno un miracolo che secondo me non accadrà. Li scadenziano al sedici dici sedici diciassette per cento. Cambia poco. Invece un miliardo e quattro fai un miliardo e tre e cinquanta. Cosa cambia? Non è più sostenibile. Questa proprietà non può più permettersi l'Inter. E io ti dico da interista incomincio ad essere schifato di questa situazione. Te lo dico dove te lo dico quando il scadenziamento non è ufficiale innanzitutto. Te lo dico quando la squadra è prima in classifica e te lo dico quando ho visto in Champions League contro l'Atletico Madrid una squadra a frantumare una delle squadre più forti del mondo. L'Inter che ha frantumato l'Atletico Madrid. Te lo dico ora. Io da interista incomincio ad essere schifato perché io sono per l'Inter non solo per vedere la palla che entra dentro. Io non voglio vincere solo quest'anno. L'Inter deve essere in grado di vincere nel tempo, di avere un progetto. Qui si naviga a vista in attesa del primo iceberg. Perché l'UEFA già ti ha dato una legnata nel patrimonio netto e negativo da sistemare da qui al prossimo campionato. L'UEFA non starà ferma in una situazione di genere. Perché poi i presidenti di Serie A incominciano tutti a lamentarsi dei laurenti scommisso. Ma se tu fossi il presidente di Serie A? No. Ma parliamoci chiaro. Che investi soldi e vedi questo che si regge solo sui debiti. Ma diresti qualcosa oppure no? Ma parliamoci chiaro ragazzi. Ma di cosa cazzo stiamo ragionandomi? Ma l'etica, la morale dell'Inter, dove sono? Ma vogliamo davvero reggersi debiti su debiti? Ma ma che cazzo di roba è questa? Ma che è sto schifo? Oh! A quelli che esultano perché riscadenzi a Zang. Ma ragazzi, ma è tutto a posto. Ma siete sicuri che è tutto a posto? Voi associate le vittorie a Zang? Un presidente è contestato cinque volte. Voi associate le vittorie a Zang? A uno che non ti fa nemmeno alzare la coppa del campionato che ti vende Akhimi e Lukaku che mandano via Conte? Ma di cazzo ragionate? Uno e dopo la finale di Champions League ti dice ripartiremo dai più forti e te ne vende cinque. Fatevi prendere voi per il culo da quello lì. Mi piace farvi prendere per il culo perché sta entrando la palla? Fatevi prendere per il culo. Io queste cose le dico in un momento top. Perché dirle quando le cose vanno male è troppo facile. l'anno scorso nonostante la Champions sono stati in botteghino no? Hai fatto meno ottantacinque. Io ho visto festeggiare gente l'anno scorso perché l'Inter ha perso solo ottantacinque milioni. Te siamo arrivati al punto e vedi festeggiare la gente perché si perde ottantacinque milioni con un presidente non può fare conferimenti di capitale. Di ottantacinque milioni nostro di perdite e mi valgono a trecento di un'altra società. Perché purtroppo anche in Italia c'è qualcuno e se lancia un bond se lo compra. Noi se lanciamo un bond va a terzi perché questa proprietà questa proprietà farlocca non ha un euro da spendere. Noi ci stiamo solamente tenendo a galla grazie ai risultati al botteghino. Te mi devi dire come è possibile andare avanti in queste condizioni. E te lo dico ripeto. Te lo dico mentre il riscadenziamento non è ufficiale. Ma da un lato io sarei contento. Lo sai che guarda che ti arrivo a dire. Perché con il riscadenziamento lui mi direbbe al mondo intero non ho un euro per mantenere l'Inter perché nessuno mi ha prestato soldi. Perché non è un rifinanziamento. È solamente un prolungare l'agonia fino a quando la Cina non vende l'Inter perché Zanga non conta nulla. Zanga non decide nulla. Le ruote di maggioranza dell'Inter ce l'ha Alibaba. Non è Zanga che decide. Ma poi sto cazzo di Zanga dove è andato a finire? Dov'è il presidente dell'Inter? Te mi dirai ma non è più come prima che i presidenti vanno in ritiro? Pranzano con la squadra? Lo so benissimo ma dov'è questo? Che fine ha fatto? Che immagine dà poi questo qui all'Inter con tutte le magagne che ha? Che immagine dà questo qui? Ma ci vogliamo ribellare un po' a questo schifo oppure no? Io ti dico via da andare a contestare la squadra. I ragazzi cioè questa squadra è spettacolare. I valori che ha questa squadra sono spettacolari. Ma te così non puoi più andare avanti. Ma riscadenzi che? Ma cosa vuoi riscadenziare? Per fare cosa? Vuoi arrivare alla velocità del suono dei debiti? Vuoi arrivare a due miliardi di debiti? L'UEFA non ti fa arrivare a due miliardi di debiti. Ti legna prima. Perché in Italia sai tengono a galla noi. Tengono a galla la Italia. Non ti tengono a galla. Se l'UEFA si sveglia male domattina te non giochi la Champions. Hai un miliardo e mezzo di debiti. Dove cazzo vai? Voglio vedere poi dopo come vedete. Ciao Inter. Ciao Inter. Grazie.